Un'altra risposta del mondo bancario utilizzando le risorse della Banca Europea degli Investimenti con un bando che abbiamo fatto come Regione Emilia Romagna per cercare di mettere a disposizione il sistema delle imprese, quello più innovativo, quello che voglia sfidare ancora il futuro, risorse a tassi competitivi per cercare di investire ancora nella ricerca, nell'innovazione, nelle tecnologie delle imprese per assicurare nuova occupazione. È un impegno che dobbiamo tutti portare a compimento, mi pare che questo sia un alto tassello anche nella organizzazione nuova che la Regione ha messo in campo per aumentare l'attrattività e l'appetibilità dell'Emilia Romagna. Stiamo facendo di tutto per cercare di trovare collaborazione con il sistema delle imprese, per cercare di trovare collaborazione con le banche, perché solo attraverso un nuovo contatto, una nuova responsabilità e anche un riconoscimento reciproco della forza del sistema economico della nostra Regione, che va avanti soltanto se insieme banche e imprese possono lavorare e se hanno un sistema pubblico che si mette ancora più in gioco e che sta vicino alle imprese e gioca con loro la partita del futuro. Credo che questo sia l'obiettivo della legge sull'attrattività e l'obiettivo che l'Emilia Romagna si è posto per accompagnare, stare dentro le imprese, insieme alle imprese e dare nuovo lavoro.